Riot Games e Twitch si sono messi di nuovo d'accordo per regalarci frammenti di skin, leggendari e non, emot e quant'altro. Questa è una nuova serie di casse che viene sbloccata mese dopo mese. Collegando Twitch ad Amazon Prime, andando alla pagina linkata nella descrizione di questo video e nel primo commento, troverete la pagina con tutte le informazioni per ottenere i vostri lauti premi e, ogni 30 giorni, dopo aver sbloccato la prima, ne potrete sbloccare un'altra gratuitamente. Se volete supportare il mio lavoro, potete fare il sub gratis con Twitch Prime, che mi aiuta a portare avanti tutto questo progetto. Godetevi il video! Grazie a tutti! Buono! No vabbè, ho capito quel Naudilus, che cazzo ha fatto? No vabbè, ho capito quel Naudilus, che cazzo ha fatto? Ho il terrore di Pantheon nella mia giungla, vi giuro. No vabbè, ho capito quel Naudilus, che cazzo ha fatto il Naudilus. Ci vuole una vita e mezzo prima che spuonino gli Ergo Granchi. No vabbè,ni ed tightbass. No vabbè, ho capito quel Nauro Edilus, che cazzo ha platotto. Grazie a tutti. 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 Hard played, man. Good job. Oh, che strano. Good job. 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 ok non ho ben capito perchè abbia aspettato tanto a usarla ulti comunque questo è come dovete giocare un early game con Elise quando prendete vantaggio si no lo so che voleva condividere i soldi ma non sapendo quanto era il cooldown della sua ulti non sapevo quanto mancazze arrivo bot ragazzi questo è il group stage lo so che gli Invictus Gaming adesso hanno vinto contro i G2 non ha importanza un'alline ha stato sviluppato Ah era sotto torre Che altro avevo paura di cosa Wow Zed Well played Zed Bravo Zed Sì come usare Echo Jungle Non lo saprei neanch'io come usarlo Guardate l'ultimo Bella Scatter along my pants Sì 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 Vabbè, dai ho un video per YouTube Oh, per fortuna è stupido Per fortuna che è stupido Pantheon Infatti sta farmando un botto più di me, è normale, ho deciso di monoguncare Qua è proprio last hit violento Non ho mai All'acchi, ma che vuol dire all'acchi? Siete stati turbo scopati Si è perso un jacky lavo spaziale, me lo guarderò dopo Non è che me lo son perso e non lo recupererò mai più, eh? Ma perché fa ste robe? Ma è scemo? Minchia la velocità di movimento che ho 531 speed, è disgustoso Non è che me lo son perso e non lo recupererò mai più, eh? Cazzo di smite schifoso Fucking smite Parola di sorcerer è punto a questo Andiamo così, va Se non vendessi solo per 60 No, bro, si è appena suicidato No, bro, si è appena suicidato Ah, cacare, pancio Non c'è il blu Lì possiamo verso la midline Ah, le big perché puoi toglierlo il filtro Il filtro per le parolacce su roll puoi toglierlo, eh? Secondo me, se trovo qualcuno adesso qua Faccio il colpaccio Come trovo Pantheon? Non so per quale motivo dovrei trovare Pantheon qui Però ho la sensazione che passerà Dai Dai Dai, Pantheon Dai E passa Non fa nel bu Ok, è qua Ok, passa qua, passa qua Mi sono certo, mi sono certo Ah, neanche questo Perché qua c'è un lume Ah, no, Joe Oh Oh Boom Boom, bitch Mamma mia Vinta Questa non so come cazzo L'abbiamo fatto a stompare così in fretta L'abbiamo distrutto sto game Fantumaro Quelli che sono nella parte più alta classifica Attualmente se rimaniamo Secondi I primi 340 Guadagnano l'RP Semplice 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 Morgana è due terzi Delle morti Sì comunque il fatto che ho preso solo A più Avendo un 18 di kill present su 27 Che schifo